Tornano ad accendersi i riflettori sulla situazione del pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. Organico carente, turni impossibili per il personale che vi opera, continui abbandoni per le condizioni di lavoro stressanti, conflittualità crescente con cittadini esasperati per le lunghe attese in locali inadeguati. Con queste considerazioni il presidente dell'Ordine dei Medici Umberto Quiriconi fa un'analisi impietosa delle condizioni del pronto soccorso, una struttura che per il presidente sarebbe stata realizzata in ambienti angusti, senza che finora siano state messe in atto soluzioni per razionalizzare gli spazi esistenti, ricorrendo a interventi tampone che hanno, secondo Quiriconi, semmai acuito il problema. Ma è il tema del personale quello che resta al primo posto delle preoccupazioni dell'Ordine dei Medici. Secondo Quiriconi, sempre meno medici scelgono la sede di Lucca per lavorare. I concorsi vengono banditi, ammette il presidente dell'Ordine, ma il pronto soccorso dell'ospedale, così come altri reparti, costituiscono una sede di lavoro poco ambita. È questa la riflessione che Quiriconi chiede di fare all'Asle e alla Regione, un problema da risolvere quello della carenza di medici che per l'Ordine professionale deve costituire infatti la priorità per tutti gli attori coinvolti.